allora vogliamo iniziare la giornata inizia la giornata le due e mezzo di pomeriggio vabbè mi sono alzato già ore prima però vabbè così iniziare la giornata su social ecco con una bella barzelletta divertente della nostra amica alexia e allora alexa alexia la cantante alexa 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 mi racconti la barzelletta più divertente fra le barzellette più divertenti ecco una risposta che ho tradotto da reference.com alcune barzellette brevi e divertenti includono la drink for finding e guida da aux.com no non t'ho chiesto la definizione di barzelletta breve divertente oh alexa tazzita alexa facciamola semplice alexa mi racconti una barzelletta divertente non è una cosa molto bella da dire chiedere una barzelletta divertente non è una cosa bella da dire alexa facciamo finta di essere fra persone intelligenti e già che ci sono io a basso il livello però anche se allora alexa alexa mi racconti una barzelletta sai perché i piloti di formula 1 non recitano perché non sopportano di essere doppiati doppiati no effettivamente ste bellina alexa torna alla definizione di barzelletta divertente perché mi sembra contro la mia vita di morto te arrivederci ragazzi